Ambrogio Pozzi, geniale, polierico e designer gallartese, è riconosciuto a livello internazionale per le sue grandi collaborazioni con le aziende del tipo Rosenthal, Guzzini, Alessi, ha prodotto il famoso cono Pierre Carden. Inaspettatamente la chiesa di Sant'Antonio ospita una collezione appartenente alla famiglia Pozzi nelle quali lo stesso Pozzi si confronta con un tema particolare, quello dell'umano e del trascendente. Le sue opere sono presenti nei più grandi musei del mondo, basta citare il MoMA di New York per cui è stato per noi un grande onore poter ospitare all'interno di questa chiesa che sorge a due passi dalla sua abitazione gallartese questa mostra. Da questa casa poi qui si affacciava ogni giorno, come descrive nelle sue memorie e aveva la presenza ossessiva e inallienabile della cupola della basilica che l'ha portato a creare grandi pezzi come il servizio TR13 nel 1964. E non solo, la lanterna conica l'ha portato appunto a progettare e a sviluppare tutta una serie di prodotti dal cono Pierre Carden a una serie di presepi dove questa figura conica del cono rappresenta lo slancio verso l'alto, verso Dio, verso la poter osi. Ambrogio Pozzi sarebbe stato contento di una mostra qui a Sant'Antonio nella sua città? Ambrogio sarebbe stato contentissimo anche perché lui era tovarese, però ha vissuto gallarate, ha amato gallarate e poi la chiesa Sant'Antonio è sempre stata molto vicina a noi. Quindi sicuramente, poi è molto bella la mostra, è molto variegata e oltre a tutto c'è molto buon gusto, è quello che lui amava. Certo, e le opere sono tutte parte della collezione? No, sono tutte mie, sono parte della collezione che l'Ambrogio mi ha, quando è morto, trovato, perché io non potevo entrare nel suo garage. Quando bussavo, se voleva mi apriva o no, però lui collezionava tutto, teneva tutto perché amava averle e quindi fanno parte della mia collezione, parte le ho in casa, i disegni, ci sono libroni con tante foto, tanti disegni e quindi sono stati tolti con molto buon gusto da questi livelli. Grazie.